dopo mangiato prima ha fatto cura una strada diversa comunque vince che aveva un sacco di sabbia delle capelle invece è un fuoco diciamo che è che lo deve fare perché se no è imposta se no è imposta perché abbiamo le gomme gonfie in particolare questa cosa è un'impaio è un'impaio è un'impaio è un'impaio è un'impaio è un'impaio andiamo a casa andiamo a casa andiamo a casa andiamo a casa alla discoteca no è un'impaio è un'impaio è un'impaio che bello tutto il resto vale quanto questa è un'impaio no è un'impaio è un'impaio è un'impaio questo è così è un'impaio è un'impaio no 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 mamma e poi io ho sminicato un patto a piedi sono cascata tipo di schiena ma sono bellissime perché come fa è una torte quando? quando sei scesa con lo skateboard sì all'impaio sei caduta di spalle ma non di spalle di schiena tipo quelli in là che fanno le capricce